A grido di l'informazione libera non può essere fermata, si registrano vehementi proteste ad Istanbul contro la repressione della libertà di stampa. Circa 500 i dimostranti che si sono radunati davanti agli uffici di Bugün TV, molto lontana dalle posizioni di Erdogan, in risposta al raid effettuato dalla polizia che ne ha interrotto con la forza le trasmissioni. Sono qui a causa della censura imposta alla stampa, dice questa manifestante, e per la situazione che si è venuta a creare. Sono qui in nome della democrazia contro la crudeltà nei confronti dell'informazione. Il governo intanto accusa gli oppositori di destabilizzare lo Stato in previsione delle elezioni del primo novembre. In un modo o nell'altro, afferma il co-leader del partito procurdo, Demir Tasha, per un lungo periodo di tempo siamo stati oggetto di una moltitudine di pratiche illegali ed incostituzionali che non trovano fondamento in alcuna legge nazionale o internazionale. In tal senso, dunque, il raid non ci sorprende. Le forze dell'ordine hanno utilizzato gas lacrimogeni, spray al peperoncino e cannoni ad acqua per sedare il malcontento, mentre alcuni pubblici ministeri hanno tacciato le sommosse alla stregua di un'organizzazione terroristica.